Se il pubblico è stato a guardare i posti di lavoro, pare che non interessi a nessuno. Quindi questo, partiti chiaramente ci sarà un po'. Nel senso, noi ognuno ci ha assomso le sue responsabilità, poi che non ci venissero a dire che questo è meglio di questo e questo è meglio di questo. Quindi anche a qualcuno che dice che Brucchi ci sta prendendo in giro, rispondiamo. Non è Brucchi che ci prende in giro. Brucchi non c'ha mai l'uso in questi anni. Siamo stati tartassati e tassati. Quindi ci aspettavamo qualcosa da chi invece ha manifestato sulla carta di difenderci. E al momento opportuno, oggi, non sappiamo perché. Non sappiamo perché, perché non ci spiegano. Come vedete, nessuno ci risponde. Perché non si può aspettare due o tre settimane e risolvere un problema grave. Qualcuno di questi politici è in grado di rispondere?